Amici 17, le quote dei bookmakers vedono i Rama favorito per la vittoria Il serale di Amici 17 sta per terminare e le quote dei bookmakers vedono come super favorito alla vittoria in Rama, davanti a Carmen. Il serale di Amici giunge al termine Anche quest'anno dal talent show condotto da Maria De Filippi sono sbucciati tantissimi talenti alcuni di loro sono ancora nella scuola per contendersi la vittoria in occasione della finalissima che andrà in onda lunedì 11 giugno in prima serata su Canale 5 Nella puntata della semifinale hanno conquistato la felpa nera da finalisti tre cantanti e una ballerina, che sono, i Rama, Einar Ortiz, Carmen Ferreri e Laurence Lentano La domanda che sorge spontanea a questo punto del percorso è la seguente, chi vincerà questa edizione di Amici? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i pronostici a riguardo per elencarvi quelli che sono attualmente i favoriti alla vittoria finale Chi vincerà Amici 17? Le quote dei bookmakers Stando alle quote dei bookmakers Eurobe e Snai il favorito indiscusso per la vittoria del talent show Amici quest'anno è il giovane e talentuoso cantante Irama che viene quotato a 1.30 su Eurobe e 1.30 su Snai Secondo i pronostici la cantante che avrebbe maggiori chance di contendersi la vittoria con Irama è la 17enne Carmen Ferreri che viene quotata a 4.25 su Eurobe e 4.50 su Snai Ad avere meno chance di vittoria sono invece Einar Ortiz a quota 800 su Eurobe e 900 su Snai e la ballerina Laurence Lentano, già vincitrici della categoria Ballo, che viene quotata a 2.100 su Eurobe e 2.000 su Snai Nonostante le quote a cui abbiamo fatto riferimento vedano come favorito Irama non sono esclusi dei possibili colpi di scena in occasione della diretta del talent show visto che anche gli altri talenti in gara vantano una quota relativamente bassa Dove rivedere le puntate di Amici 17 . Inoltre vi ricordiamo che per chi volesse rivedere le puntate del talent show dallo smartphone o dal tablet basterà scaricare gratuitamente l'app Mediaset On Demand dove verranno caricate tutte le puntate una volta andate in onda su Canale 5 Per il momento è tutto. Vi consigliamo comunque di seguire quotidianamente il sito Blasting News dove troverete tantissime anticipazioni e numerosi scoop riguardanti il mondo del gossip e della televisione italiana